Nome e cognome Alberto Faganelli Paolo Ciotti Età e titolo di studio 39 anni, laurea in giurisprudenza 37 anni, liceo scientifico Professione Imprenditore Imprenditore, titolare di BR Car Service Di cosa ti occupi in azienda? Sono il responsabile commerciale ma faccio un po' di tutto, da bravo imprenditore e brisciano Un po' di tutto, dalla gestione delle persone alle quotazioni Come hai fatto a diventare imprenditore? Sono imprenditore di seconda generazione, la mia azienda è un'azienda di famiglia fondata circa 30 anni fa La Maris di Carpenedolo, è stata fondata dai miei genitori ed ora la dirigo insieme a mio fratello È stato merito sicuramente del Master ISAP e della formazione ottenuta grazie al Master Non solo, chiaramente anche grazie all'impegno che ci ho messo Che consiglio vuoi dare a chi vuole iniziare un'attività in proprio? Di impegnarsi al massimo, impegno e dedizione e qualche sacrificio sono fondamentali per avere successo nel mondo imprenditoriale Avere coraggio, non avere paura di esprimere le proprie idee e di presentarle e cercare di perseguirle Anche a costo di lasciare delle strade che si stanno percorrendo e che si capisce non sono valide Cosa rappresenta il Master ISAP per te? ISAP è stata innanzitutto una grande sfida È nata dall'idea di due amici di ritorno da un viaggio a Milano Ma è diventato un progetto importante per i giovani imprenditori E soprattutto un volano per creare nuove aziende e nuovi imprenditori in provincia di Brescia Sicuramente mi ha dato una formazione e è stato volendovi vedere un trampolino di lancio per la mia iniziativa e per tutto il progetto di BR Car Service E quindi? Iscrivetevi alla nuova edizione di ISAP, avete tempo solo fino al 31 dicembre Quindi iscrivetevi a ISAP entro il 31 12 2015 perché è una grande opportunità Grazie a tutti